amici bentornati sul canale 9.000 giri elaborazioni autosportive oggi volevo fare una puntata per dare alcune informazioni in più sul discorso della di blu nel senso che recentemente abbiamo avuto parecchie macchine con delle problematiche relative appunto a questo a questo sistema e abbiamo ricevuto ricevo quasi quotidianamente delle delle richieste o dei consigli su cosa fare quelli che potrebbero essere diciamo delle soluzioni per ovviare a un sistema che a volte crea dei grossi problemi allora innanzitutto cominciamo a definire che cos'è il la di blu la di blu è un diciamo un liquido a base acquosa e miscelato con un rea in proporzioni molto molto precise che serve per abbattere quello che è l'ossido di azoto cioè serve per andare ad abbattere fino all 80 per cento di quelle che sono le emissioni di azoto questo azoto viene trasformato in questo questo ossido di azoto viene trasformato in azoto e vapore acqueo quindi più dell'ottanta per cento a questo tipo di modifica quindi un sistema assolutamente interessante da un punto di vista di abbattimento delle dell'inquinamento allora il funzionamento di questo di questo sistema è ovviamente un'interazione fra il catalizzatore e il sistema fa per quindi nel momento in cui diciamo sia il catalizzatore che il fa per sono in efficienza attraverso un segnale che viene comandato sempre dalla centrale elettronica viene messo nel nel tubo di scarico questa sostanza appunto questo a di blu che va ad appesantire quelle che sono le le molecole di ossido di azono di di ossido di azoto tenendole il più possibile non volatili qui ripeto come detto prima un sistema assolutamente logico da un punto di vista teorico il problema che cos'è che questo liquido è contenuto diciamo in una in un serbatoio una tannica appunto montata diciamo più o meno vicino dove c'è il serbatoio del carburante che ha un ovviamente un pescante e un livello che viene segnalato nel quadro strumenti questo tipo di liquido ho visto anche un paio di filmati che descrivevano bene la questione è un liquido che tende a cristallizzarsi cioè un liquido il cui diciamo il scopo è chiaro è quello che vi ho detto prima diciamo che la parte negativa è che a contatto con l'aria questo questa sostanza che appunto come dicevo prima si chiama urea tende a cristallizzarsi quindi la cristallizzazione ovviamente non è certo efficace non è certo come dire può creare dei seri problemi laddove questo liquido attraversa appunto tubazioni iniettori scarico e quant'altro soprattutto la parte diciamo del contenitore del pescante perché nel momento in cui si cristallizza e va a bloccare il pescante lì vengono fuori i problemi perché ovviamente col pescante bloccato diciamo la centrale elettronica manda un segnale che appunto viene visualizzato sul quadro strumenti dove si indica che il serbatoio ha bisogno di essere abboccato e fin lì più o meno potrebbe la cosa potrebbe ancora andare bene peccato che questo sistema è accompagnato da una specie di countdown quindi tutte le macchine più o meno 1500 o 1000 chilometri che siano se uno non va a riempire in questo caso il serbatoio ma che in questo caso il serbatoio è pieno il problema è che si è bloccato il pescante quindi se uno non risolve il problema finiti i 1000 chilometri la macchina va in protezione quindi quello ovviamente è una specie di ghigliottina oltre la quale la macchina non può essere utilizzata quindi il problema è che tantissime vetture abbiamo visto veramente tanti clienti che ci chiamano con questa problematica poi ci sono a seconda delle case ci sono delle case che risentono di più e delle case che hanno magari risolto in maniera empirica in maniera diversa questo problema ad esempio mi viene in mente abbiamo avuto un sacco di clienti con delle Mazda CX5 o CX3 o anche tante Peugeot che hanno questo problema molto di più che no magari clienti Mercedes o di altre marche in ogni caso più o meno comunque il sistema colpisce tutti questa problematica colpisce tutti allora che cosa si può fare per cercare di ovviare a questi problemi? a miracoli non ce ne sono diciamo che il suggerimento che vi posso dare è quello di tenere sempre il serbatoio il più pieno possibile cioè il fatto che questa sostanza, quest'urea vada a cristallizzare è ovviamente dovuto al contatto con l'aria quindi più lasciamo che il serbatoio si scarichi e entri aria nel questo serbatoio e più corriamo il rischio che quello che rimane nel serbatoio si vada a cristallizzare quindi non aspettate di arrivare in riserva con il serbatoio della D-Blue ma cercate di tenerlo sempre rabboccato il massimo possibile in maniera tale da avere meno aria possibile nel serbatoio e questo secondo me è il suggerimento empirico più logico e più semplice da tenere presente un altro suggerimento che vi possiamo dare è quello di acquistare dei liquidi anticristallizzanti da immettere nel serbatoio quando farete il rabbocco con la D-Blue in maniera tale da andare a diminuire il rischio di cristallizzazione di questo componente e allontanare appunto la problematica della quale vi ho detto prima quindi diciamo che queste sostanzialmente sono le due soluzioni poi diciamo la soluzione estrema è quella appunto di disattivare da un punto di vista elettronico il funzionamento della D-Blue però sappiamo sempre che un sistema di questo genere non è, vi porta la vettura fuori omologazioni quindi io sconsiglio sempre così come andare a eliminare fisicamente il FAP sconsigliamo di fare lavori del genere anche se tanti appunto hanno deciso di fare questo genere di seguire questo tipo di strada perché ce ne sono altre che possono essere più logiche e meno problematiche anche perché quando poi la gente deve sapere che quando poi la macchina andrà venduta perché a un certo punto la macchina verrà cambiato andrà venduta la macchina deve essere venduta perfetta in tutti i suoi particolari per cui se uno va a disabilitare il funzionamento della D-Blue sia da un punto di vista meccanico che elettronico stessa cosa per il FAP o il catalizzatore sa che quando rivenderà la macchina nel 99% dei casi dovrà fare il lavoro uguale e contrario con dei costi abbastanza importanti non tanto per la D-Blue ma quanto per quelli che vanno a bucare il FAP e poi per poter ripristinare la situazione bisogna comprare un FAP nuovo quindi attenzione a fare questo tipo di operazioni perché poi a lungo termine la pagate oltretutto se per caso vi dovessero fermare sia per quanto riguarda la disabilitazione della D-Blue che del FAP o del catalizzatore uno è penalmente perseguibile io direi che sostanzialmente per questo discorso di D-Blue vi ho dato le informazioni che ho recuperato altre non mi sembra che ce ne siano per ovviare al problema per qualunque genere di domande io sono sempre a disposizione per cui mandatemi tutte le domande che volete io cercherò di rispondermi come sempre per il resto mi trovate in sede allo 027383175 del lunedì e venerdì io sono sempre disponibile per il momento è tutto un saluto alla prossima alla prossima Grazie a tutti.